Il Siracusa nelle sabbie mobili. Ancora una volta poche idee ma confuso per il Siracusa che continua a perdere punti dalla vetta. Risultato, sesto pareggio ottenuto contro squadra di bassa classifica. Si è giocato a porte chiusa per l'inagibilità dello stadio, ciccio scapellato di scicli ma il termine giocato è già di per sé un eufemismo. Il campo già ridotto a un pantano impraticabile e reso ancora più insidioso dalla pioggia battente era assolutamente irregolare vista la fantasia con cui vi erano state tracciate alla bene e meglio le linee di demarcazione. Il Siracusa si era iscrivito in campo con una sorta di netto 5-3-2 con Saitta, Gozzo, Accardo, Refice, Costa, Agliama, Musso, Alfieri, Castiglio, Fritta e Giannavola. L'allenatore scifo arbitrava l'incontro Vincenzo Garnemolla, coadiuando da due assistenti Arturo Artellini e Alessandro Ferreira, tutte e tre di Ragusa. Per continuare il suo trend negativo il Siracusa aveva messo del suo con trame inconcludente e scarsa incisività. E' ovvio che quel terreno infame tendeva a sfavorire la squadra più tecnica ma di terreni così se ne incontreranno ancora diversi sul cammino verso la promozione. Mentre le avversarie dirette continuano a macinare punti, il Siracusa naspa sempre più preda della sua incapacità di tirare fuori gli artigli in un campionato che non prevede l'uso di unghie smaltate. Detto per inciso, tra l'altro la maggior parte dei punti sono stati persi nel terreno casalingo di Palazzola in perfetta erba sintetica. Gli azzurri, tra l'altro, avevano trovato uno sciclo e con un nuovo allenatore, visto che il Presidente arrabbito per tentare di dare una scossa alla squadra, aveva richiamato in settimana alla guida degli azzurro Granata mister Roberto Tasca. Ritorno che, almeno nei progetti della dirigenza sciclitana, dovrebbe galvanizzare l'ambiente, apparso demoralizzato dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Ma non solo, questa è l'unica novità significativa della vigilia, infatti il DS sciclitano Morana era riuscito ad assicurarsi anche l'ingaggio di Gianni Fidone, buon centrale difensivo di grande esperienza. Chissà che anche per il Siracusa però il tempo della pazienza e dell'attesa non si è scaduto, visto che il Pozzallo continua la sua marcia finora inarrestabile su qualsiasi campo e non è che il terreno di gioco della Don Bosco di oggi fosse migliore di quello di Scicli. Non possono esserci più alibi per nessuno, del resto il silenzio generale del dopo partita non lascia presagire affatto una settimana tranquilla per l'intera squadra. Novità imminenti in arrivo?